Allora ragazzi, nel 2013 Marco Mengoni vince il festival di Sanremo e con questa canzone la sua carriera prende il volo. Di Casalino De Benedittis Mengoni, l'essenziale. Cantano Alien contro Luigi Cascio. Grazie. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro e da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra ambire e poi la pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri. Che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di scelarsi dietro amabili parole. Che ho pronunciato prima che, fossero vuote e stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri. Che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dai eccessi e dalle cattive abitudini. E tornerò all'origine, e torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sede. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dai eccessi e dalle cattive abitudini. E tornerò all'origine, e torno a te che sei per me l'essenziale. Grazie. Wow, che energia! Allora, sentiamo subito il parere della nostra Academy. Bernia? Eh, guardate, io sapete che con Ben Goni, insomma, ho dato, insomma, mi avete umiliato. E quindi, veramente, non so... L'unica cosa che ho notato, siccome questa canzone è molto complicata, c'è una parte molto complicata, quando sale, no? Dagli eccessi e dalle cattive... Noemi, tu che dici? Anche questo è un duetto molto intenso, mi sono piaciuti tutti e due molto, però uno dei due, secondo me, nonostante magari che è un po' più così... Ridotto sul palco ha dato tanto! Il trio Noemi, Rita Pavone e Baby Kay esprimono molto con la gestualità quello che pensano. Ma che siamo italiani! E quindi è così. Si legge tutto in faccia. Allora, dobbiamo decidere chi è dentro. Allora, iniziamo da Shapiro Vandelli. Aia! Luigi! Luigi! Allora, Luigi, aspettiamo un attimo, ecco che mi sono mossa prima. Sì, ma io queste cose di movimentazione le sbaglio sempre. Eh... Baby Kay! Alien! Alien! Grazie! Rita! Luigi! Noemi! Luigi, hai spaccato! Grande! Giovanni! Proprio per quella parte lì che citavo, mi ha convinto di più Luigi. Rocco! Tutti e due talentuosi. Luigi però piccolo piccolo, però un cazzimma eh! Luigi! Cazzimma! Lucia la cazzimma! E' la cazzimma! Secondo Rocco Ant! Enrico! Tutte e due quello che ho più voglia di sentire ancora è Luigi. Luigi! Amanda! Anch'io Luigi! Luigi! Belen! Alien! Assolutamente Alien! Grazie! Angelo! Luigi! 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 E quindi Luigi Cascio passa ed è dentro! Prego Luigi raggiungi gli altri! Bravo Alien! Comunque c'è la tua mamma per consolarti un po'. Bravo Alien! Bene! Bravo! Buonasera! Grazie.